La sinagoga di Carmagnola, sita in via Bertini VIII, fu ricavata nella seconda metà del Settecento al primo piano di una casa privata degli inizi del secolo, in quello che per alcuni anni fu il ghetto ebraico. Restò in funzione fino al 1938, mantenendo intatta la sua configurazione originaria. La sala di preghiera, a cui si accede attraverso un vestibolo, è costituita da un ampio locale circondato alla sommità da decorazioni barocche in stucco. Sulla parete orientale si trova l'Aron Kodesh, l'Arca Santa, mobile scolpito e dipinto in cui sono riposti gli arredi sacri e i libri della legge. Al centro della sala si trova il pulpito, Teva Ubi Ma, con i banchi disposti lungo le pareti esterne.